I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno hanno sequestrato un noto impianto industriale ubicato nel comune di Scafati. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa ambientale disposte dalla Procura della Repubblica di Nocere Inferiore, i militari hanno ispezionato l'impianto, accertando che i responsabili seguivano l'esercizio industriale in possesso di autorizzazione all'emissione in atmosfera decaduta. All'esito degli accettamenti è scaturita la denuncia dei responsabili su richiesta della Procura della Repubblica e il GIP del Tribunale di Nocere Inferiore ha emesso un decreto di sequestro preventivo dell'intero impianto, onde precluderne la disponibilità agli indagati ed interrompere l'illecita attività.